Eccoci su War Z, che non si chiama più War Z, si chiama If Station, perché non so... E'... cos'è quella roba là adesso in alto a destra? Cos'è? Lanterna... cos'è? Eravamo sopravvissuti fino a qui, non si sa bene come, con solo ormai le caviglie di vita, e stavo andando a visitare quel villaggio lì, meglio se ci diamo degli obiettivi in sto gioco, sennò veramente per sopravvivere, è la fine. Zombie sembrano essercene relativamente pochi, ringraziando il cielo, nell'inventario c'ho robe, ho il martello, è meglio il coltello? Ah ma, ah ecco cos'era sta roba, era una pistola per razzi segnalatori, brava signora, brava, si tenga in forma. Oh, 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 cisti, 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 ok. Restaurant, eh, magari lì riesco a trovare bende, perché mi servono delle bende per curare le ferite. Bevanda energetica, no, a me servono delle bende, io roba ne ho già. Oh c'è un bel cappello, c'avevo il cappello, io non mi ricordo neanche come... Ah no, c'avevo la maschera figa, se, se, se. Ah, adesso c'è il tempo, ovviamente, e beh, è ovvio, adesso c'è il tempo per, come potete vedere sotto, ogni volta che mangi una roba devi aspettare 15 secondi per mangiare le altre, mi sembra giù esattamente come nella vita vera. No, 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 mi attaccare perché sto per morire, no, no, con quei capelli tutti unti. Oh, no, comunque, sembra essere migliorata la sopravvivenza generale, nel senso che muoiono molto più in fretta, ringraziando il cielo, oh, un casco militare. E però io voglio vederlo, come faccio a vederlo, ma che bello che è. Magari se mi fingo uno di loro faccio tipo l'alba dei morti demente, se mi fingo uno di loro posso riesco a passare senza... sta funzionando, incredibilmente sta funzionando. Ok, spero non ci sia nessuno barricato in chiesa, eh, vabbè. Blu! L'ho colpito talmente forte che si è squagliato, eh sì, eh. Eh, vabbè, mi sa che mi sono fatto sgamare. Ah, come corre? Ok, uno, uno, non mi colpire, non mi colpire, che ho poca vita. Oh, e due. Eh, vabbè. Mi sono affogati nel legno. Oh, ma qua c'è una TV. Oh, ma qua c'è una TV. Il testo faceva proprio in quel modo lì. Che belle queste case prefatte o ripilanti. Ci vivrei tantissimo, sicuro. Beh, ha detto che avrebbero arredato le case. Oh, minimale, ma bello, eh. Complimenti. Da quando l'altra volta ho cantato Michael Jackson, gli zombie hanno imparato a fare il moonwalk, eh. Allenatevi. Uh, una balestra. Posso fare quel personaggio di Walking Dead del telefilm che non esiste assolutamente nel fumetto. Una doppietta. Posso... la prendo? Eh, madonna. Quanto è grande in mano. Scusate, voglio prima provare la balestra. Uh. Sembra f... Ci passo dalla porta. Sì. È proprio funzionato. Arma più overpower del gioco. Assoluto... Attenzione. Molti pensano che io stia giocando a questo gioco solo per insultarlo. In realtà, no. Gioco a questo gioco perché l'ho pagato tipo 30 euro. Se non mi ricordo male. Perché l'ho preso al day one perché mi attirava tantissimo. Il survivor con gli zombie a me piaceva un sacco. Days. Seven Days to Die. Anche lo stesso Minecraft, per l'amor di Dio. Però poi... Insomma, c'è una storia lunga dietro questo gioco. E per questo che lo insulto. Anche se ci gioco alla fine perché... È comunque un survivor con gli zombie. C'ha dei chiodi in testa questo signore. Soldini. Ha dei chiodi in testa. Ma cosa stava facendo prima di diventare uno zombie? Per sapere. Giusto per... Si divertiva. Come Scrubs che dicono... Si vedono le lastre delle radiografie con... Nel pube oggetti incredibili. E tutti che dicono ci son caduto sopra, ci son caduto sopra. Uno zaino. Oh. Io che zaino ho? Non ce l'ho. Aha. Ecchi te. Zaino medio. Cosa vuol dire? Partita tranquilla oggi comunque. Madò. Madò. Mica l'avevo visto. Oh, ho visto qualcuno abbassarsi nel bar. Attenzione. Oh, oh, oh. Scambio di colteli. Salve. Mannaggia. Vicinanza. Si scrive. Hello. Maronne. Se dico che non ci sono rimasto male, dico una cazzata. A sto giro andiamoci di cittadino medio. Così, senza capelli. Con uno smile un po' deturpato. E dei geans. E lo chiamiamo... Faf. Ed eccoci con Faf. Che però in realtà è solo temporaneo perché vorrei continuare la mia avventura su Warzy con cesoie. Anche se però è una rottura quando... Mi passa un po' la voglia di giocare quando... Se entri nei server poco popolati non trovi mai giocatori. E quindi sopravvivi solo contro gli zombie ed è... Alla lunga è un po' inutile. Quando entri nei server popolati il primo che trovi ti fa fuori. E porca Eva. Non c'è un'alternativa che sia una via di mezzo. Un po' come Daze. Ma mi sa che mi conviene... Poi... Più avanti vi farò vedere Daze. Io però mi sto un po' annoiando. Volevo raccogliere i fiori ma non posso raccogliere i fiori. Perché non posso raccogliere... Cioè io non posso fare niente per tutto il viaggio perché nella mappa... Nella mappa non c'è niente e non mi fa raccogliere i fiori però. Perché non posso raccogliere i fiori almeno. Però posso prendere un po' di tempo. Adesso chiamo il notaio. Mando una lettera alla direzione www.mannaggia la miseria. Voglio giocare a questo gioco ma è brutto. Fizz. Avevo... Dicevo che avevano detto proprio prima ancora di far uscire il gioco. Tra le info ci saranno i veicoli. Allora a me non frega niente se ci sono i veicoli o no. Per esempio in Daze anche se non li prendo non è un problema. Però Dio santo qua servono. Soprattutto se non mi metti neanche mezza baracchina. In mezzo agli alberi. Oh c'è una baracchina in mezzo agli alberi. Arrivo subito. Kruger.22. Sì alla seconda guerra mondiale siamo. Ma è un'altra... Ah no questa è una pistola vera. Ok. Almeno adesso sono un vero americano con la mazza del baseball. E possiamo... Uh. Fucile Kruger 22. Ma quindi il fucile... Bonnie. Il fucile e la pistola hanno lo stesso calibro. Mi sembra un po' strano. Vediamolo. Eh dove era? Ok. Eccolo. Guarda che bello. E beh. Complimenti per il mirino. Che non mi copre per niente tre quarti di visuale. E potremmo andare a Boulder City. Così vi faccio vedere una città. Quindi se... Si gira di qua. Sì. Io direi andiamo a Boulder City. Sì. Sì.